Oggi prepariamo la crema al mascarpone per fare qualcosa un po' di particolare. Ho messo un po' di grado. Ciao! Adesso montiamo l'albume. Ecco qua, l'albume è montato. Lo aggiungiamo al mascarpone e alle uova. Chi ha inventato la crema al mascarpone, ragazzi, sono un genio. E' Tato? Dei passare? Passa. Puoi spostarti Tato col codone. Bravo! Grazie! Bella cremosa. Ecco qua. Bosetto. Amaretti. Quattro amaretti. La nostra crema. Tre cucchiai di crema. Poi apriamo il marron glacé. Si, c'è acqua. Si capisce che non c'è più forza, eh? Sono vecchia. E' ecco qua. Voilà. Il marron glacé. Il marron glacé. Si deve sempre inventare qualcosa, eh? Uno. Due. Mettiamo ancora un po' di cremina. Un po' di crema. Uno. Due. 3 4 va bene poi buttiamo ancora un po dopo vediamo come faccio a mangerlo ok ancora un po di marron grassi ok per completare mettiamo una spolverata di cacao 1 2 3 4 ecco qua pronto il dolce è servito vediamo com'è venuto ragazzi buonissimo ragazzi fatelo buonissimo consiglio a tutti grazie 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 grazie